non vinceremo più neanche una cazzo di partita ne sono sicuro anche col genova ma quando cazzo dirigenza bianconera quando è che prendete una maledetta posizione sul futuro di questa società non ve ne fotte un cazzo el can non ti interessa la juventus vendila vendila da lì agli arabi da lì a chi cazzo vuoi vendila ma non farci stare così a noi tifosi a vedere il nulla sul campo